buongiorno ragazzi siamo qui al lago venere di livraga nel laghetto dedicato alla trotaria e oggi ci divertiremo a provare un po di esche a vedere quelle che potrebbero essere le migliori per la pesca di oggi vediamo un po come va iniziamo la pesca provando con questo cranchettino un deca che lavora molto in superficie quasi un popperino e con questa rodio L corzite e un mulinello d'air presso un po' iniziamo 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 Prota, resa, a popper. Passiamo ora a un crank che scende più in basso ma non intanto in profondità, infatti usiamo un Mokka F, collocano all'interno i pallini e vediamo se abbiamo più catture. Ah, ne ho già avuto un attacchino, ma si è staccato. Ah, dentro o no? Sì, proviamo, non lo faccio due volte ma non si è. Ah, è staccato. Ah, è staccato. Eccola. Eccola. È già su grossa. Ah, è staccato. Ed è arrivata con il Mokka Fett SS. Più piccolo, più sozzo. Grazie. 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 Eccola. Cattivissima. Bella cattiva questa, ragazzi. Mamma mia, che tacco. Mamma mia. Che grossa. Che grossa. Cattivissima. Che grossa. Passiamo agli spuni, di solito si inizia con gli spuni e ha iniziato con il crank e usiamo questo shale da un grammo e due di casa Valken andiamo a prendere una pastatina Ah Siamo vindo delle toccatine Questa è bella grossa Eccola qua Con lo sheila da 1,2 g Abbiamo cambiato l'amo dello sheila Un momento più piccolo, vediamo un po' Un momento più piccolo, vediamo un po' Eccola Ammo cambiato, però è presa alla prima mangiata Mangiata Ottimo Un momento più piccolo, vediamo un po'